Non sono fantasmi, non sono esseri umani. Le Shadows of People sono gli esseri ombra. Le Shadows of People sono comunemente note come entità o esseri ombra. Secondo alcuni, sono entità aliene, ma questo non significa che siano di origine extraterrestre, perché non si conosce la loro provenienza, anche se molti ricercatori del paranormale insistono nel dire che queste entità sono viaggiatori spazio-temporali o esseri multidimensionali. Essi sembrano essere consapevoli della nostra presenza, si manifestano a volte indifferenti e a volte minacciose, e pare che potrebbero popolare dimensioni a noi sconosciute. Nella maggior parte dei casi, queste entità appaiono e scompaiono gradualmente, non appena vengono avvistate. Variano dallo stare semplicemente in piedi vicino a un letto, a una porta o a un muro, e non sembrano comunicare in nessun modo, neanche quando si trovano vicino al testimone. Alcuni popoli nativi che le hanno visti, o comunque erano a conoscenza della loro esistenza, raccontano che si tratta di esseri alieni o entità che viaggiano sia dentro, sia fuori dal nostro piano fisico, attraversando le dimensioni spazio-temporali. Queste entità rappresentano un tipo di razza sfuggente che ha sempre convissuto con gli esseri umani, fin da epoche antiche, una teoria che suggerisce che questi esseri non solo esistono, ma sono anche ospiti frequenti della nostra vita. Coloro che hanno sperimentato e studiato il fenomeno dicono che queste entità si mescolano sempre nel silenzio e nel buio della notte, e possono essere viste solo molto brevemente con la coda dell'occhio. Secondo il ricercatore del paranormale Heidi Hollis, le Shadow People sono entità soprannaturali malevoli, che molto difficilmente possono fare del male fisico attraverso lo spostamento di oggetti, bensì sono propense ad attaccare emotivamente, come attraverso la paura e ciò che possa dare loro energia. A volte sono proprio queste entità a creare le famose paralisi del sonno, e in riguardo a questo troviamo molte testimonianze. Il non riuscire a muoversi, intrappolati da questa forza misteriosa, che percepisce le paure attraverso le quali risucchia tutta l'energia di cui ha bisogno, per poi andarsene, lasciandoci liberi di urlare e riprendere il respiro. Tutti possiamo essere potenziali testimoni oculari o vittime di questa entità ombra, non importa di quale paese, continente o lingua, tutti possono vedere e sperimentare la loro presenza. In tempi recenti, il numero di persone che ha testimoniato la presenza di questi esseri è aumentato sensibilmente. Alcuni testimoniano di aver visto anche inquietanti sagome scure, con gli occhi rossi e un cappuccio da monaco. Non sappiamo se sono entità aliene, viaggiatori del tempo o esseri interdimensionali in missione per osservare e influenzare gli esseri umani, ma su una cosa pare che i ricercatori del paranormale siano tutti d'accordo. Queste entità si alimentano di energia umana e emanano emozioni negative, che abbiano trovato un modo per entrare nella nostra dimensione o siano accidentalmente scivolate nel nostro piano fisico, non lo sappiamo, ma ormai sono qui e l'unica cosa che possiamo fare è comprenderle, ricordandoci che le Shadows of People sono presenze negative.